Quello più in questa mezza, adesso ho chiesto di parlare di uno speciale prodotto su quale stiamo lavorando, che si chiama GlobalX, non so se l'avete mai chiuso a nominare. Beh, comunque è un sistema che garantisce anonimato delle fonti che si hanno delle giornalistiche e di conseguenza è uno dei primi sistemi che si affida la rete Tor, solo che anziché spiegare questo progetto, non riuscire a fare più un cappello sulla questione di sicurezza delle telecomunicazioni anonimato della persona che sta online, questa conferenza per lo più parlerà di anonimato tecnologico, è più o meno quello che vi aspettavate? Avete già esperienza di uso di sistemi di anonimato? Qualcosina? E' buono. Dunque, l'elemento più classico che si immagina dell'anonimato è il fatto che mi presento con un proxodo nuovo differente dal mio quando sono in social network, piuttosto che ho uno studio interagente con qualche sito o persona. Il punto qual è? I modi per compromettere l'anonimato avanti da una persona che si protegge in questo modo così semplice, è sia analizzare la sua connessione di rete, quindi capire dove sta effettivamente lui a comunicare, identificare, associare questa comunicazione a una persona reale, sia a riuscire a comprendere parte della sua vita, la sua di quello che lui ti racconta o piuttosto che sul tipo di utilizzo del computer, solamente certe fasce della giornata o il tipo di ricerche che fa, quindi che ti fa capire il suo livello culturale, la sua lingua, i suoi interessi principali, questi tipi di elementi che riguardano la profilazione, ovvero a parlare con una persona anonima, raccogliere da guardate lui da quello che vi sta dando e da farne un'idea più o meno personativa di chi è lui. Questi sono i due tipi di attacco che si fanno per svelare un'identità. Gli obiettivi di questa giornata qui sono quello che vi ricorda l'anonimo cosa non lo è, questo che l'anonimato è una proprietà di sicurezza che deve provvedere la resistenza a certi attacchi e tutto quello che non garantisce questo tipo di difesa non è anonimato, è un anonimato debole. Quindi iniziamo a identificare bene cosa sia un anonimato forte e cosa non lo sia. Riuscire a avere protetta una propria localizzazione geografica con la quale si entra in internet, aggirare la censura, scoprire i servizi ritranciabili. L'attaccante è quello che sta nella rete, nella rete è possibile effettuare la cattura del traffico, l'intercettazione. Cosa è che può finire la comunicazione? Un'intercettazione, se c'è la comunicazione a questo punto, a questo punto in ognuno degli elementi della rete in cui è applicato il passaggio e nella loro subnet è possibile collezionare il traffico che sta passando. Di conseguenza sia che sia un operatore nazionale o un provider nazionale che sta intercettando tutta la rete dei suoi inventi o solamente alcune parti, sia che sia la vostra rete di ufficio o di casa in cui c'è un sistema di intercettazione locale, sono entrambi i due avversari che possono controllare le vostre comunicazioni. Poi una delle vostre comunicazioni conoscerà il vostro effetto. La soluzione a questo tipo di attacco base è stata la petrografia, ovvero riuscire a far sì che l'attaccante intercettasse pure le comunicazioni, perché tanto così funziona la rete, quindi non si può evitare che se sei nel mezzo tu possa salvare dei dati che stanno trasmetto, però può evitare che siano leggibili da lui e conversibili da lui. Da qui si sono utilizzati le caratteristiche di petrografia. Il primo sistema è quello che si chiama petrografia chiave simmetrica, ovvero il segreto che conosce l'utente che trasmette, il segreto che ha anche altro utente, quindi una password o una chiacchia binaria. La cifra al dato, l'operazione con la stessa password è invertibile, quindi decimolo il dato. Il problema di questo tipo di utilizzo è che serve che le operazioni siano scambiate la chiave o la password prima. Se siano scambiate il segreto, si chiama out of band, cioè fuori dalla banda di trasmissione, perché se uno scambio dove sta intercettando l'attaccante, lui conosce il segreto. Quindi bisogna odirsi alla voce, odirsi altri meccanismi. Non è un meccanismo portabile, non è un meccanismo di funzionare su una rete globale, di conseguenza non è mai stato utilizzato in modo professionale. Il meccanismo che invece ha dato più robustezza e scalabilità nell'uso online è il sistema di chiave asimmetrica, ovvero sistemi di cartografia come RSA oppure elliptiche che consentono di avere due coppie di chiavi. Voi conoscete la cartografia asimmetrica? Questo per capire. Sto parlando tutto veloce? No? Ok. La cartografia asimmetrica si dovrà ribucciare questo punto di vista perché consentiva di avere un algoritmo che con una chiave potesse cifrare e con un'altra chiave differente, immaginate insieme alla prima, potesse decifrare. Quindi come per un lucchetto in cui una chiave chiude l'altra apre. Quindi nella teorica la persona genera una propria coppia di chiavi, distribuisce la chiave pubblica a tutti, chi usa la chiave pubblica per cifrare, solamente chi la chiave privata la potrà più. Questo è il meccanismo con il quale si garantisce la confidenzialità delle comunicazioni, quindi SSL, SSH, OTR, scambi di email cifrate, si basano su questo tipo di cifratura. E questo è il meccanismo con il quale si garantisce la confidenzialità per una connessione e non ancora l'avranno animato perché pur avendo una connessione illegibile, se si sa che a questo punto ho parlato con questo, conoscendo l'identità di due punti, puoi già immaginare il tipo di trassi che ci possa essere, piuttosto che alcuni tipi di connessione possono essere estremamente espliciti, se stai magari comunicando con un dottore si può supporre che tu sia malato, piuttosto che se comunico una persona che si pensava non dovresti frequentare o che non frequentassi più, invece sia esplicita il fatto che ha ancora delle relazioni, quindi dato, se vuoi essere anche esso riservato, da essere protetto. Allora si è provato con le VPN a utilizzare, man mano che il problema dell'animato o comunque della relazione tra una soggette e una distrazione, potrebbe essere il sintomo di problemi, gli utenti hanno preso il tuo sito di utilizzare il segno di VPN, ma è veramente anonimo, una VPN, un altro che un servizio che consiste di creare un tubo cifrato, ovvero una connessione alla quale tutte le vostre connessioni entrano e anziché raggiungere internet dal vostro computer, arriva ad un server con la quale avete stabilito il vostro servizio VPN, questo servizio inoltre le vostre connessioni su internet, di conseguenza voi uscite su internet a nome del servizio VPN, non a nome vostro. Se qualcuno sarà intercedato il traffico, quello che vedrà è solamente un tubo cifrato, non si capisce se voi state andando su Facebook o sconcettate, se assolutamente voi fate il traffico verso il servizio VPN. Questo viene considerato anonimato finché l'FBI non ha preso un gruppo di persone che si possono passare per Anonymous, che utilizzavano sistemi di VPN, un giorno giustamente gli entra in casa e i casi dicono, ma come? Noi eravamo anonimi, usavamo le VPN? Eh, ma che dipende se non sono anonime, perché? C'è sempre un server che ti stava un servizio, questo servizio tu puoi averlo pagato, puoi usarlo nel mercurito, fatto sta che lui ha i tuoi dati, ha la tua connessione e infatti lo stai mettendo tu sopra un canale di comunicazione portato e poi lui potrà intercettare quello che sta uscendo a nome tuo, cioè a nome suo, fatto da te. Allora la ricerca è proseguita e nel frattempo si capiva anche che l'avversario aveva un pochino più di potere di quello che si immaginava, cioè prima si analizzava solamente chi vuole intercettare il tuo traffico, adesso abbiamo visto che chi vuole scoprire l'anonimato potrebbe anche compromettere il servizio a quale ti stai avvalendo. In conseguenza bisogna iniziare a pensare anche alle tecnologie che possono resistere alla compromessione di un servizio. Quindi si rifletta un po' di più su il tipo di avversario che sia e si capisce che gli avversari possono essere vari, può essere chi sta interagionando tu perché è un agente privato che vuole avere delle informazioni sui te, può essere che sia il tuo nemico concorrente, qualsiasi che sia il governo cinese o quello del Malibu. Gli avversari sono variegati. Per riuscire a creare una tecnologia che sia più possibile utilizzabile in diversi contesti, serve prevedere l'avversario peggiore. Come dice anche Bruce Neier, esiste la criptografia che ti protegge dalla sorella che ti legge il diario e esiste la criptografia che ti protegge dai governi. Quando si dice che è un meccanismo, un metodo di sicurezza comprovato in modo scientifico si presuppone l'avversario peggiore o più potente quanto risorse e attuizione ed è su questo tipo di stima che si fanno le tecnologie di protezione. Nello specifico, l'avversario ha un obiettivo di scoprire che l'utente A ha interagito con l'utente B e può essere sia un sito con l'utente o un servizio. L'avversario può controllare la rete e quindi per accettare la comunicazione. L'avversario può prendere il controllo dell'interlocutore e quindi essere un fitto esternatario e cercare di scoprire chi si sta dietro. Può iniettare dati fasuli all'interno della rete per riuscire magari a stimolare dei comportamenti da parte della persona anonima e fargli essere delle informazioni. Oppure può anche interrompere le comunicazioni per riuscire a scoprire effettivamente chi è A che sta comunicando con questo B. C'è qualcosa che mi sta dicendo? Questo quindi è il tipo di difesa, cioè di possibilità che ha l'attaccante, ma purtroppo l'utente comune utilizza degli strumenti molto più blanti e semplici. Quando cercate tecnologie di anonimato, qui sotto si trovano due tipi di risposte o quelli che servono per proteggervi, in un modo che ora vedremo, dalla profilazione fatta dai servizi che vi profilano, oppure tipi di WBM. Però questo non è il vero animato, ma questo è quello che gli utenti rispettano. Quindi se avete avuto che fare alcuni diversi software, o comunque quelli che trovate su download.com o software libero, molto spesso trovate meccanismi di consorzione tipicamente sicuri, ma che sono sicuramente una parvenza di protezione. Una delle tecnologie più tipicamente confuse con anonimato è il Do Not Track. Ovvero si sa bene che una buona parte del business online si basa sul fatto che gli utenti che utilizzano in modo gratuito i servizi, ma questi servizi stanno studiando i vostri interessi, le vostre relazioni, quello di cui parlate, anche di riuscire a ottervi della pubblicità sempre girata, o comunque una visione di internet più possibile in linea a quello che la macchina pensa che vi interessi. Questo ha come effetto collaterale quello di creare delle grosse banche dati che effettivamente conoscono tutte le vostre abitudini o i vostri interessi. Un paragone simile è che se tu entri in un negozio finché sei in quel momento, in quel luogo, stai interagendo con il mercato, qualsiasi che ci studi chi sei tu come cliente per darti quello che tu vuoi, ma quando esci dal negozio la tua esperienza di acquisto è finita. Invece il meccanismo che avviene online è che navigas un sito come un negozio, mantieni delle informazioni che ti identificano in modo univoco, navigas un altro che fa parte sul circuito di sharing queste informazioni e si sta popolando il fatto che tu sei andato prima in un negozio e poi in un altro. Quindi l'invasività di questa raccolta dati è di una lunga maggiore se fa la controparte non digitale. Il Bureau Track è una tecnologia che doveva teoricamente risolvere questa cosa, ovvero un piccolo flag che all'interno delle richieste HTTP il client può dire non tracciarli. E' stato richiesto dalla Federal Trade Commission in America perché ci saranno apporti che la quantità di profilazione che si poteva fare, che potevano fare, che fanno attivamente Google, Facebook, Anobi, Amazon, ebay è così grossa che potrebbe avere delle conseguenze estremamente pericolose per le singole persone. E questa tecnologia teoricamente è la sede da questo, però è come chiedere a chi ti sta controllando questa cosa qui non guardarla, non la considerare. Ti stai fidando, ti stai fidando a chi vive grazie a questi dati. Quindi c'è un dubbio un po' sull'uticità o sulla certezza la garanzia che dà uno peso insieme. Comunque sia, se vostro sacco e stai intercettando la rete, quello che fate lo vedete. Ma io ho notato che ultimamente se hai il Do Not Track attivo ti esce una finestrella su alcuni siti, cioè gran parte dei siti, che ti dice ah guarda che stiamo usando i cookie per questo, ti va bene? No, ti butta fuori dal sito. Si, entra. Ma si entra vuol dire ti ignoro il Do Not Track o vuol dire comunque ti do il cookie e di conseguenza so che ti non se ne traccia. No, comunque ti traccia. No, questa non era mai capitata. No, a me è capitata parecchie volte ormai. Si, anche Google l'ho fatto. Ma è una cosa che vuoi sbloccare settimamente. Quando avrete il Do Not Track lo fate di default su tutti i siti. Si, ma a livello di client tu invii sempre il Do Not Track. Però un certo sito ti dice ah tu mi hai inviato il Do Not Track. Però io ne ho bisogno. Eh io ne ho bisogno, quindi attiva oppure get the fuck out. Tu sai che di recente avevo un attimo cambiato la mia configurazione e notavo che con alcuni profili di Chromium spesso mi diceva no, guarda, non puoi andare, mancano troppe cose in quello che mi hai disponibile. Però siccome era mio, ti manca la Chassol a plugin, piuttosto che questi tv che non mi stanno portando. Quindi penso che sia un sintomo simile. Cioè, siccome stai mandando il Do Not Track, non ti faccio andare. Solo che a me non chiedeva l'offerta di ah devi abilitare i miei Google. No, alcuni siti ti permettono di mantenere la finestrella e quindi vai avanti e fai le tue cose. Altri proprio ti oscurano il sito e ti esce solo la finestrella. Senza i tuoi dati, qui non puoi entrare. Esatto. Preoccupante. Ah, ok, vabbè, come definizione dell'anonimato c'è il fatto che è una proprietà tecnologica di una connessione. Molto spesso si associa che l'anonimato sia una proprietà da una persona. Cioè si associa anche nel dibattito pubblico quando c'è una indana che si lamenta dei twitter anonimi. No, l'anonimato di cui si parla quando si parla di tecnologia è una proprietà di una connessione, una trasmissione di GCP in cui non sei evidente che l'AMS è una rete e magari non sei dove è arrivata. quando si parla di umani che vogliono stare anonimi, devo sempre considerare che il modo con cui saranno tracciati o attaccati sarà con... non legato all'analisi informatica che sono in dubbio che possono scrotendersi, ma sarà legato al restante dirittà della loro vita che riescono a ricompacciare e associare quindi a un profilo reale. Quindi, niente, questa proprietà consente che i dati s'aggibili tanto del senatario, che non siano accettabili e che il senatario non possa risalire a chi ammette. Gli utilizzi convenziali o utili dell'animato sono la protezione del dato dell'emittente, l'inservatezza della confidenzialità di comunicazione. Ad esempio c'è un servizio che è in fase di studio. Voi sapete cos'è l'urofussometria? Per fortuna no. Però tutti quelli che hanno 15 anni iniziano a riconoscerlo. E' un problema che... cioè è un esame che si fa per diagnosticare il problema della prostata. In pratica funziona con una rotellina sulla quale tu fai la pipì e lui riesce a disegnare un'onda che dimostra l'interestate del tuo flusso. C'è come questo momento di studio un meccanismo per riuscire a farlo su Atomobile. Comunque sia, in modo da l'altro puoi riuscire a misurare il flusso che arriva in un contenitore o si muove. Però qual'è il problema? Se tu stai facendo un esame di quale comunque già fatto di parlo può essere un'informazione riservata o comunque personale. E tu stai usando lo smartphone e il tuo smartphone è attaccato a una wifi aperta e chi è interessato a quella rete sa che tu andi sul server dell'urofussometria. Da lì capisce una tua posizione personale senza capire il contenuto della connessione, solamente capendo il destinatario. Quando si parla di tutte le riservatezze si parla del fatto che già il destinatario può essere comunque un elemento sensibile. E in questo caso si deve usare una connessione anonima apposta per far sì che anche chi intercettarete non sa che tu usi questi tuoi servizi. L'onimato serve anche in tutte quelle minoranze la quale, l'espressione spontanea, potrebbe suscitargli delle repercussioni. Che so, se siete in anni 70, siete di colore, piuttosto che siete in Texas. Quando sei in minoranza, cercare di, se non sei in uno stato democratico, comunque sia, se non sei in uno stato in cui la minoranza è tutelata, c'è il rischio che la maggioranza ti stigmatizza quello che tu hai esposto in alcune situazioni di limitazione della libertà di espressione, e quindi l'onimato è un utonometriismo che c'è per si esprimere o proordinare o parlare. E' un po' quello che succede comunque negli stati del Sud Asia quando si sa del controllo controllo e censura ha per lo più sospetti culturali, e per cui chi non è d'accordo con un sito di cultura non ha accesso ad alcuni dubbi di risorse. L'onimato ci dà questa possibilità. E gli utilizzatori possono essere da aziende, governi, che vogliono fare attività strutturatura, che vogliono utilizzare questi tipi di sistemi, attività ritmali che vogliono proteggere persone magari in minoranza rischio, perché i cittadini normali vogliono proteggere l'informazione sulla loro connessione. Con un flusso motore suboccolato in cui alternano il perché utile l'onimato e il come si attacca l'onimato, qui torniamo sul come si sono stati attaccati i VPN e i prossimi anni scorsi. La VPN appunto ha questa limitazione dell'avere un nodo che sta offrendo un servizio, e questo servizio può essere compromesso o ad attacchi informati, o dal fatto che una cosa dell'ordine va a chi gestisce il servizio e dice da ne cesso tutto se lo faccio chiudere. Ha successo così nel 1998 quando Scientology aveva fatto causa a un anonymous email, anonpennati.fi, è un servizio di mail anonime del tipo mi scrivo con le mie vera mail e tu mi dai un alias e io da te posso mandare delle mail con il tuo alias. Il fatto sta che il servizio teneva traccia dell'utente con la quale cedi il login e del tuo indirizzo fasullo, e di conseguenza il giorno che hanno compromesso quel server hanno capito chi era la vera identità che era sotto un email. JAP, Java Anonymous Proxy, era un servizio dato nel 2005 in Germania. La polizia ha fatto sì che il software utilizzasse una forma di fotografia più debole o che addirittura avesse il controllo costante della connessione e il salvataggio della connessione del lato servizio e sia intercettata in questo modo il conflitto delle persone che stavano spiando. oppure appunto i tizi di Anonymous che sono stati scoperti perché, pensando ad essere anonimi, in realtà usavano HideMyYes che è un sistema di clienti. Perciò non usavano la tipologia più a due volte per pulire le nostre compromesse entrambi. E che era il nostro servizio. Ora, io sicuramente ho il vostro due volte, però... ah no, c'è la canale WPN e sempre WPN. Comunque sia la servizio è solo uno, quindi il fatto che tu hai la possibilità di sapere quando sennò tu è uscita qual è la connessione in chiave e di poterla salvare, o di debolire la fotografia perché comunque sia, se tu una chiave che ti aspetti sia randomica in verità è un pello di quasi fisso o con cinque viti dentro via appena l'attacchi la sai rompere, però chi staziona l'analisi passiva non si è accorto ma non si manca anche nella chiave. Questi sono i meccanismi con cui tu puoi abbassare la sicurezza di una connessione pure utilizzando la fotografia. Per evitare le chiavi non utilizzate, chi ha fatto la modifica lo sa, chi non l'ha fatta è semplicemente lo scuriti e il sobrino è rilassante. Però semplicemente lo ricordo già quanto si è fatto. So che erano stati usati uno di questi due metri. in modo in cui è comunque possibile denominizzare uno scambio di dati anonimo, si trova tramite i metadati. I metadati sono quegli elementi invisibili in un file che possono contenere aspetti identificativi. Se faccio una foto con me il cellulare rimane di conseguenza se non tolgo questo dato dalla foto può essere rivolta al mio cellulare. Poi non è detto che fosse la volutita da me, però inizia a identificare e a ricondurre a una persona un dato che dovrebbe non essere compliciti. Utilizzare l'account dell'utente realistico di conseguenza avere la sua indirizzo email con la quale si è registrato su diversi account di Facebook per riuscire ad avere, che so, delle diverse reti sociali con la quale si stia affidando. Quindi, che so, creo un utente per avere le sue internazioni con la famiglia, un utente per avere i gruppi di amici della scuola, un utente per avere i gruppi di amici del lavoro. Così a non farli nessun altro a loro perché vorrei tenerli separati. Se pubblicisci sempre con la sua indirizzo email, Facebook sa comunque che Diego c'è la stessa persona. Oppure comportamenti univoci, per cui condivendo le dati in modo riservato con qualcuno, ma le persone che potranno avere questo dato sono due o tre, di conseguenza si conduce comunque sia, non può essere poi un utente online o tutta questa cosa, ma sono tutte persone del mondo reale. Ora vediamo un sistema di attacco all'anormato delle VPN che si chiama Passive Traffic Analysis. Ovvero, per adesso l'attacco del VPN che abbiamo visto richiede che venga compromesso il servizio, quindi ci sia un hacker che viola il servizio, modifica l'applicazione piuttosto che interaggiatta al traffico che è in uscita, piuttosto che le forze dell'ordine che chiedono al gestore del servizio di fare delle cose, piuttosto che chiedono al servizio che in verità atto è stato immediatamente la che vuole controllare. Però richiede sempre una compensativa, ovvero devo fare delle modifiche all'applicazione, devo conoscere il sistema, non funziona ancora in modo scalabile lo stesso tipo di attacco, quindi è un attacco che in pochi, in modo sommato, possono realizzare. Attacchi invece di controllo massivo sono molto più scalabili, basta una tecnologia sola per poter controllare milionati di utenti. Allora immaginiamo che abbiamo un servizio che sta offrendo un servizio VPN, abbiamo un po' di utenti, in questo caso 20, noi stiamo controllando i server che offrono il servizio, vediamo 20 connessioni ciprate che arrivano e inviandati da un client a un server, cioè da un client a VPN a un servizio VPN. Da questa strada VPN vediamo che escono 30 connessioni in chiaro, di varia natura, chat, facebook, web, mail, connessioni che stanno uscendo, 30. Quindi alcuni di questi due cifrati magari avranno una connessione solo stabilita, altre hanno 3, altre hanno 2. 3. Così è quello che vedremo. Molto semplice l'immagine, dunque abbiamo 20 canali cifrati in cui noi sappiamo cosa succede all'interno e 30 sessioni anonime perché non sappiamo chi ha fatto che cosa. Noi non abbiamo accesso al server, ma abbiamo il controllo della rete. Non lo modifichiamo, non lo blocchiamo, stiamo semplicemente leggendo questi 50 flussi. Per leggere dei flussi, quello che vedete, ogni singolo flusso è composta da una serie di pacchetti. Così sì, sembrerebbe se stiamo intercedendo dal traffico quello che vedete. Pacchetti che compongono dei flussi. La cosa importante per questo tipo d'analisi non è analizzare i singoli pacchetti in cui sappiamo che il contenuto è protetto dalla criptografia. Quello che ci interessa è capire la forma che ha il singolo flusso, la singola connessione. Quindi se la connessione ha una forma particolare, che è caratterizzata da una piccola richiesta iniziale e una grande massa di dati ricevuti in seguito, mentre una chat è caratterizzata da tanti piccoli chunk di dati che invii quando stai scrivendo e un arrivo costante di piccoli chunk di dati che sono gli aggiornamenti della chat espressi in righe. Di conseguenza, analizzando la connessione cifrata, guardo solamente il tempo e la dimensione dei pacchetti, si può capire più o meno che tipo di protocollo c'è sotto. Però sostanzialmente prendendo il protocollo non ancora chi ha fatto le cose. Quello che dobbiamo fare è una correlazione, ovvero riuscire a capire quali sono le connessioni, cioè riuscire a trovare che è una connessione in uscita a un tipo di forma e riuscire a cercare questo tipo di pattern all'interno di tutti i cifrati. In questo caso appunto è un profilo di traffico, questo qui è ad esempio una connessione, una sequenza di connessioni che in un momento accetto per me. E' un'altra cosa, se l'accetto è un po' cosa. Però mi sembra che fossero degli aspetti di navigazione web, ovvero faccio una piccola richiesta, ottengo tanto risposta così probabilmente ho un video che stavo guardando. Questo è Pinterest, ci sono pagine magari con molti contenuti, questi qua sono pagine con meno contenuti. Quindi quando tu fai la richiesta all'interno della tua connessione, poco dopo otterremo la risposta. Questo tipo di pattern lo si vede sia nel traffico in chiaro che si sta intercettando ma non si sa a che attribuirlo, sia si vede anche nel traffico cifrato. Quindi mettendo ognuna di queste, comparando il profilo delle varie connessioni, si possono trovare delle connessioni che sono sicuramente all'interno di quelle citrate e da lì correlate. Allora, la soluzione che la comunità scientifica ha troppo giù, ha troppo fuori già da molti anni, sono le Mixed Network. Le Mixed Network riescono a garantire il massimo livello di anonymato che si può fare e vengono in varie salse utilizzate. Si basa sul concetto per cui, se si vuole essere anonimi, bisogna essere parte di una rete e questa rete vi faccia la potenziale presta nome. Ovvero, faccio parte di una rete di mille persone, comunicando in modo anonimo vuol dire che io potrò al massimo apparire con uno di queste mille. Se la rete è di milioni di persone, la possibilità che tu sia anonimo è maggiore. Se la rete è anonimo, ma lo usano poche persone, anche se sia anonimo o anonimizzato questa rete, comunque sia può essere identificabile. Perché l'anonimity set, ovvero la quantità di persone che compatti un gruppo che si mette in posizione per anonimizzare i propri membri, deve essere una certa dimensione per poter essere sensato. Queste tecnologie, che si basano sulla collaborazione degli utenti, esistevano già dagli anni 80 e il primo meccanismo serio che si utilizzava era quello degli Anonymous Re-mailer. Ovvero, immaginate una rete di entità anonime, di clienti anonimi, come possiamo comunicare con una destinazione, il fatto che lui c'è questo servizio, o questo, o questo, non si serviva. E' indifferente l'algoritmo che gli organizzano, il conseguente che analizza la rete sa che ogni utente potrebbe andare su qualunque macchina. Da qualunque macchina in cui arriva un dato viene poi incontrato, viene andato un'altra volta, viene andato un'altra volta, quando esce, è stato impossibile realizzare la rete e riconturre il mettente del segnatario e nel frattempo l'informazione uscita anonimizzata. In questo modo vengono quindi più rimbalzi del vostro dato comunicato, fatto in modo che non dipendete solamente da un elemento. Se si dipende da un solo elemento, come nelle cose VPN, c'è un single point of failure, c'è un elemento che si attacchi, in cui c'è comprometto. Nel momento in cui l'affidi a una rete, non c'è più un singolo elemento. Supponiamo infatti che ci siano almeno tre nodi di anonimizzazione, quindi io mando un dato al primo, il primo passa al secondo, il secondo passa al terzo, il terzo passa al destinatario. Se a essere compromesso è il primo nodo, quello che vedrà è solamente che io sto mandando un messaggio, ma non conoscerò il contenuto, non è il destinatario finale. Se viene compromesso invece il secondo nodo, conosce che c'è un dato che viene dal primo nodo, ma non sa da chi viene originariamente, e sa che deve andare al terzo, ma non sa a chi andrà. Se invece sto compromettendo il terzo nodo, so che arriva un dato anonimo, ma non so chi va, ma non so chi me l'ha generato. Di conseguenza serve compromettere almeno due nodi per riuscire ad avere dei dati di analisi possibili, e più sono tanti di un indicato evitano, più difficile averne compromessi abbastanza da poter portare questi tipi al tasco. Questo richiede che ci sia per un meccanismo di cifratura, ovvero che chi deve avere un'operazione inoltre al dato che costrui consegnano al mitente finale, sia l'unico legittimato a leggere questo dato. Allora si è creato questa tipologia stratificazione. Pensate ad avere un messaggio, un dato, e voi riuscire a mandarlo in modo anonimo a un destinatario. In questo caso, questo è quello che succedeva con gli anonimo su remailer, si creava un'email che era cifrata inizialmente per il destinatario, poi la cifravo per il remailer, quindi in selezione di mandi notto remail, cifrata con la chiave dell'ultimo remailer, quello che mi fai da non busci. Questo messaggio cifrato per l'ultimo remailer lo cifro per il secondo remailer. Questo messaggio cifrato per il secondo remailer lo cifro per il primo. Alla fine ho un blocco di dati cifrati in modo stratificato. Quando consiglio questo blocco al primo remailer, al primo nodo, solamente lui è legittimato a conoscere il contenuto, perché l'ho cifrato per la sua chiave pubblica. Quindi lui è l'unico a dirlo, troverà all'interno un messaggio per un altro remailer, cifrato per la chiave dell'altro remailer. Lo consegnerà e solamente il secondo remailer avrà la possibilità di aprirlo. In questo modo si sta conservando la riservatezza del dato e si fa sì che in una catena di nodi che stanno collaborando con questo tipo di scopo si riesce a creare una comunicazione anonima. Quando l'emailer esce dal terzo remailer, si sono perse le tracce e per la spiegazione prima del minimo 3 hop, si garantisce il fatto che anche con la compunzione di un nodo non si sappia chi ha fatto che cosa. Questo qui è un meccanismo che ora è in buon disuso, è nato nel 1998, una tecnologia molto semplice spiegata in questo bel libro online. è avere la necessità per funzionare di avere un server di posta con un indirizzo del mail dedicato per gestire le mail del remailer, quindi tu avresti come indirizzo del remailer di posta con un utente, con un utente rispondeva anzi che un utente il semplice di remail. Questo però richiedeva un sistemista dedicato, la volontà di farlo girare, la percezione dell'utilità e siccome non c'erano queste caratteristiche, non c'erano questi requisiti, la rete di anonymous remailer è andata morendo. Se è sostituita e in modo molto più forte è una rete che occupa un'altra funzionalità, la rete TOR, che la rete ha bassa latenza. Le enti ad alta latenza sono quelle in cui tu comunichi un dato autocontenuto come un email, tramando e poi arrivare il senatario in un po' di ore, perché comunque il remailer ha delle loro esigenze di manda o di anche aspettare nel rinvio dell'email per riuscire a proteggersi da attacchi di correlazione. Se l'invio è immediato, manda una mail, so che immediatamente dopo viene inviata a un secondo remailer, poi dal terzo, poi al quarto, poi al destinatario, chi analizza la rete vede questo tipo di effetto e di conseguenza con il collega che l'email che è arrivata è partita per un secondo di prima dal midtest. Invece le remailer utilizzano un epismo di ritardo forzoso, per cui accumulano un po' di email, dopodiché le rimandano in questo modo, questo tipo di correlazione è impossibile. Però sono rete anonime a bassa latenza, vuol dire che la comunicazione che potete fare deve essere autocontenuta. Quelle ad alta latenza sono invece quelle che anonimizano le connessioni interattive, quindi poter un contenuto anonimo, averlo immediatamente dopo poco e poterlo inviare a modo rapido. il POR, questo progetto nato da più e attorno al 2001 e finanziato da entità sia accademiche che private, da una decina d'anni hai dato il prodotto dell'arte anonimato perché ha utilizzato il meccanismo di protezione derivato dalle mixnet, però applicato a una rete di nodi in cui si fa parte in base volontaristica che da anonimato alle connessioni interattive. La cosa forte di TOR è che anonimizza le connessioni TCP. Se prima i sistemi di anonimato, come gli anonymous e le mailer, erano dedicati a un protocollo solo, quindi le mail, o con free net che erano dedicati al file sharing, quando sono anonimizzati TCP, qualunque protocollo che si chiude su TCP, che sia mail, che sia file sharing, che sia chat, che sia web, comunque è anonimizzato. Poi, naturalmente... Ok, come funziona TOR di conseguenza? Questo è il concetto del blocco di dati cifrati in uno certificato. Con tre chiavi, Alice invia un messaggio al nodo R1. Il nodo R1 è quello con la chiave verde, toglie il suo lato in certura, nel caso indicato col verde, non invia il secondo, non invia il terzo, arriva a riscata ARI. Qui riescono a gestire il terzo a ritroso, perché c'è uno scambio di chiavi tra Alice e R3, e di conseguenza imposterà R3 per dire dopo dovrei rispondere usando queste chiavi a ritroso, che ci sia sicuro, ha ancora delle... ha anche lui delle possibilità di violazione. Perché una cosa è una tecnologia, di conseguenza più il troversario motivato più non si attaccherà sull'altro tecnologico ma su quello umano, quindi troverà correlazioni tra il comportamento nella vita reale e il comportamento nell'attività online, anche se li fanno da noi. E questo è quello che è successo per l'appunto, quando c'erano questo gruppo di persone che spacciava costantemente sincrold, ma tramite l'infiltrazione di un agente, anche se le persone sono anonime, quando riesci a avere un oggetto infiltrato che può comunicare con le persone anonime, da lì capire dei dettagli sulla loro vita, riuscire a restringere l'anonime di 7, perché le persone che intuiscono a questi dettagli sono comunque poche, fare il lavoro di analisi alle spalle e da lì riuscire a trovare effettivamente che la persona che sta utilizzando Thor, in verità, è quello che ha individuato e da ricatturarlo. Interessante invece è anche un evento con dei gruppi di Anonymous sudamericani che hanno preso come due nemici il Zetas, che è un gruppo di Narcos Melsicani, in cui con minacce del tipo ah avete minacciato una persona che fa parte del nostro gruppo allora noi libereremo i dati che parlano della vostra orientazione se liberate i dati della vostra orientazione le uccidevano tutte le vostre famiglie e così via, da lì comunque hanno, più o meno nonostante fossero anonimi, hanno quella pressione per avere delle minacce da parte dei narcotrafficanti al confine hanno scoperto chi erano queste pressioni qui e le minacce sono quindi le oppure anche Sabu, il caso della Borsaccia a parte del gruppo Luzzec che avevamo potuto avere attacchi a varie istituzioni due anni fa l'FBI utilizzando anche gli agenti filtrati e analisi di traffico ha capito che fosse veramente a quel punto hanno cominciato a fare la spia per loro e per sei mesi o poi si fermano a continuando ha fatto la spia per l'FBI questo è successo nonostante lui non si torna perché in sei mesi di analisi mentre lui era anonimo aveva iniziato a spiegare delle vicende che avevano avvenute a un suo amico, delle vicende che hanno avvenute a lui nella sua vita pochi dati, comunque per chi c'è quando si è l'API e che c'è le analisi, sono riusciti a trovare che poche persone avevano la possibilità di imparciare quando hanno messo, sono pronte le mati queste poche persone, hanno visto che solamente uno usava Tor ed era online quando c'era chissà due online, di conseguenza una mattina gli sono bloccati in casa e gli è diventato un collaboratore questo perché comunque quando sei anonimo, appunto, è proprio nel senso di essere anonimo, ma se tu dai dati tuoi infatti quello che ci deve far capire è che se davvero uno possiamo fare attività criminali non deve utilizzare l'anonimato degli utenti perché poi avere delle istruzioni dell'anonimato molto più convercate e molto perfidabili, utilizzare le botnet che comunque vengono vendute a noleggio sul mercato, sul mercato losco dell'internet, è un metodo che mi fa benissimo per utilizzarsi quindi il concetto che gli strumenti dell'anonimato pubblici possa favorire un'eventuale cybercrime a poco senso siccome è cybercrime si può avere gli strumenti in loro possesso ci sono un po' di attacchi che si sono fatti su... facendo parte della rete, ovvero... ah sì siccome l'ASP comunque blocca il traffico proprio... non lo parese... il fatto che il saldo potesse usare una VPN per un'eventuale del retorno l'usava un VPN, non mi sembra? no, nel caso ipotetico, nel caso volesse usato poteva garantire una sorta di... anonimato in giù, dato che comunque sia che l'occhio della VPN o che l'occhio comunque la ASP però comunque l'intenti offre quel... secondo me, allora quello che avessi fatto è successo se analizzavano il traffico, nel caso di cui avessi analizzato il traffico che lui fosse stato a percare gli IPM, diciamo questa... non potevano percarsi quindi... capisco però conta questo, già TOR ha se vuoi un pattern di profilo, cioè un pattern di traffico che sembra come DPS di conseguenza, già per capire che è TOR, non devi dire guarda del traffico che basta da 4.4.3 perché potresti pensare che sta andando su un sito con marketing DPS potresti dire che è TOR, di fare un'analisi legata al suo pattern quindi non manda mai pacchetti inferiore CV su 12 byte perché la cella minima è questo piuttosto che ha una guanda di scambio iniziale perché sta andando con i nodi e ha dei pattern caratteristici questo tipo di dato, un'entità che fa analisi del traffico, lo deve avere se un'entità che fa analisi del traffico e lo fa sulla VPN ha il seguito di risposta c'è la VPN di protettore quindi se il loro obiettivo è scoprire quale tra questi possibili indagati fosse qualcuno che già è... sia tecnicamente esperto che vuole usare un canale cifrato che non sia che uno fa cos'è magari un TOR comunque sia se c'erano due volte di profondazione bassa adenza o è sempre fatto nel traffico e questo comunque in una situazione in cui magari gli indagati erano una decina il fatto che uno utilizza un canale cifrato è già discriminante per dire quindi capisco questo tipo di ragionamento perché talvolta viene suggerito anche da qualcuno che dice siccome TOR può essere individuato usa come VPN che protegge tutto questo senato TOR e poi usa TOR per essere anonimo però appunto... l'ho capito però siccome è appunto anche la ISP logga quindi sostiene può avere anche il problema del... ma anche il locking della ISP non ti fa capire che è TOR il locking della ISP il massimo ti fa capire che è stato usato dal sito poi il tal sito può essere... vedete che c'è una connessione anche di TPS però non capisci effettivamente la natura della tua connessione sostanzialmente in cui hai fatto una connessione anche di TPS l'informazione importante a capire è questa connessione è TOR per ottenere questa connessione devi fare comunque un canale del traffico se hai canale del traffico oppure appunto anche il VPN riesce a smascherarlo quindi è proprio questione che dire che TOR comunque non è immediato come legge un log in proxy sarebbe comunque un analisi un pochino più profondibile e questi qui sono invece le chiusi in attacco che resta infatti iniettando exploit piuttosto che flash malevolo piuttosto che altri meccanismi a chi arriva da TOR ovvero arrivo da TOR esco da un exit node gli exit node sono un numero limitato di server quindi posso avere questa lista di diritti di di conseguenza un server web può sapere che è l'utente che arriva da TOR perché la riconosce l'exit node in questo caso facevano un esempio di come se l'utente arriva da TOR allora anziché offriti un contenuto legittimo ti offre un contenuto che ti exploita quindi magari una monorabilità java a zero day o un attacco di attacchi su flash o se no un altro solito di browser siccome è arrivato da TOR te lo mando di conseguenza ti guardo il computer se non sei piacciato e una volta che hai guardato il computer posso sapere qual è l'indirizzo con il quale sei collegato e questo qui appunto è un meccanismo di exploiting insieme al context drive perché secondo il contesto d'utilizzo sei avuto interonimo te lo possono dare se no nelle exit node anche loro cioè gli elementi che ti hanno iniziato e mettono il loro D2D per contattare la connessione sono comunque servizi che hanno dato connessione in chiaro sono sempre più gente è successo nel 2007 che per dimostrare il fatto che si utilizzassero connessioni non riservate all'interno della rete TOR l'utente non usava connessione cifrata tipo con HTTPS non la usava con HTTPS questo era naturalmente un rischio più per l'utente perché chi non c'è la exit node avendo lui la possibilità di vendere il traffico che stai ricevendo e inviando potrà anche collezionarla in questo caso l'ambasciata mi sembra indiana ha dato come direttiva a tutti i suoi ambasciatori di usare TOR per poi grazie alle mail siccome il fatto che il tuo ambasciatore mandi una mail c'è questa radio magari un'informazione sensibile per l'ambasciata in sé utilizzare TOR sono una soluzione di quelle ideali per proteggere i propri inviati e invece siccome utilizzavano login e password in chiaro mettete su POP3 piuttosto che su smtp senza un'identificazione più cifrata per dimostrare il costituto inizio sbagliato questo finlandese ha messo un exit node TOR ha sequenzato il traffico per tre mesi dopo che ha applicato le password dicendo ah guardate sono paranoidi ma stupidi perché non stanno girando la loro connessione la soluzione che spiega TOR è che devi comunque avere una criptografia end to end c'è una protezione che parte dal tuo client e arriva al destinatario in questo modo sia exit node che provider che il server chi sta analizzando il traffico del server e destinazione non può saperciare il tuo contenuto perché saprebbe che un punto è anonimo potrebbe comunque essere rilevante scoprire dunque TOR per il fatto che riesce a dare spazio di espressione in modo interattivo a queste piccole ignoranze e alcuni di stigmatizzate all'effetto che talvolta i vari regimi che hanno soldi da spendere anziché dedicarsi solamente a censurare internet cercano specificamente censurare TOR perché TOR è utilizzato a quella piccola quantità di persone che proprio gli dà fastidio allora questo è per esempio di quando la Cina si è messa a mappare tutti gli indirizzi dei dei servizi dei dei computer che sono esposti che utilizzano TOR a partire di TOR e appena c'era una connessione verso uno di questi indirizzi li ha interrompendo e questo è stato l'effetto sostanzialmente dalla Cina non c'è stato più nessun utilizzatore TOR però la forza di queste reti qua fatte da utenti che vivono sostanzialmente il conflitto con questi regimi è di trovare nuovi sistemi che di conseguenza qua sono andati i bridge i bridge non sono andati che dei servizi che fanno da entry node per la radio TOR l'entry node è il primo nodo a quella qui l'exit node 50 minuti l'exit node è quell'utilità l'uscita e in questo caso l'entry node doveva essere una risorsa non distribuita in modo pubblico perché altrimenti sarebbe stata mappata individuata allora se il condivisione del bridge si faceva sì che c'era una una lista di entry node TOR gli utenti richiedono degli entry node randomici e in questo modo se anche un utente fosse parte del governo e voler avere un po' proprio indirizzo per bloccarli ne avrebbe sempre pochi per volta e cambiano spesso e di conseguenza si riesce in questo modo a far sì che rimangono segreti questi la maggior parte è questa fuori di entry node vedremo altri tipi di attacchi difese però in questo momento vi lascio la pausa da 10 minuti posso aggiungere delle domande pausa ma tutto chiaro per ora vabbè comunque vi mandano ancora una piccina di slide se volete siete presti continuo e via sì? ok quello che è successo dopo tra l'altro è che la Cina a quel punto a quel punto non facciamo ancora un'analisi del pattern di traffico no? perché è molto onoroso in termini di di risorse computazionali vedere se c'è una connessione che sembra HTTPS in verità sia Tor o sia però HTTPS richiede che tu in memoria abbia lo storico della connessione se lo fai in real time devi avere un'intercettura di registrazione che sta tenendosi in memoria quando uno è fatta la connessione deve riuscire a aspettare abbastanza perché non ci siamo a passi positivi altrimenti può sembrare che inizia una connessione HTTPS segui Tor e poi interrompe HTTPS quando invece era un indizio legittimo perché di conseguenza non c'erano ancora meccanismi di pattern analysis sulle connessioni di Tor dopo l'uscita di Bridge dopo qualche mese la Cina ha effettuato un meccanismo attivo di individuazione dei di Tor quindi anche se ti collegavi un bridge ed era un indizio che non avevano in pratica entro 15 minuti da ogni connessione HTTPS che non è riconosciuta dal grande fabbro cinese arriverà una connessione da un qualunque P associato alla Cina e questa connessione diretta verifica se il contenuto che espone HTTPS o se invece sente 6 Tor il 6 Tor viene messo in una blacklist e viene bloccato però questo è stato uno step della risposta molto aspettata perché è stata la prima volta che ci sono dei meccanismi attivi di indagini automatici per capire se il nodo con la quale c'è una connessione sta dando Tor o sta andando per TPS da lì allora la motodifesa è scalata adesso si usa un sistema di offuscamento che si chiama fatto con OBS Proxy un sistema di server che non fa altro che modificare il modo in cui Tor viene trasmesso così da apparire altra roba e ingannare in questi scadation ancora il giro di Tor ah quindi assolutamente Italia ha il secondo posto per l'uso di Tor la prima come utenti forniti è l'America e la seconda è Italia la prima nazione invece come percentuale di utilizzo all'interno della sua popolazione è l'Arabia Saudita perché anche se i Sauditi sono di meno del la quantità di 20 maggiore viene dall'America però percentualmente non è così diffuso in Arabia Saudita è il posto di diffuso l'Italia è ancora secondo posto e e chissà perché non avete l'ipotesi questo è proprio in Arabia la terma fonografia si penso che in Italia e ci sono molti sistemi di cioè in Arabia c'è un sistema di controllo di sensore la fonografia in Italia però quelle aziendali comunque vanno su finita categorizzate quindi sai che un certo indirizzo di fornisce altri contenuti che sono prodotti come esempio WebSense che hanno categorizzato con keyword i vari contenuti e così il sistemista può dire potete nei dipendenti o potete andare su siti news tutto il giorno su social network o solamente durante la pausa pranzo o su conografia mail oppure su ciò che online non potete andare a cercare di andare questo è un punto di categorizzazione causa che anche i dipendenti magari di una di come di impresa dicono ma io voglio andare dove voglio io e quindi bisogna morire però questo io lo uso un po' un po' distorto in modo nel senso che non serve davvero l'anonimato serve solamente fare quello che si chiama circunversion cioè aggirare la censura una VPN serve sufficiente per aggirare la censura tant'è che viene utilizzata anche ad esempio sull'attività di streaming che sono visibili solamente se sei che esci dall'IP inglese quindi un servizio per diventare UBC che è pagare le tasse di niente interna anche se sei perché in streaming se tu esci dall'IP inglese puoi vedere che è UBC le mie partite e qualcuno lo fa il posto G è aggirare un tipo di filtro basato su chi sei tu nel caso dell'azienda è tu sei un dipendente e non vai sulla fotografia nel caso delle partite tu non vieni dall'Equilterra non vedi le partite se puoi aggirare questa cosa il tuo obiettivo non è che forza sarà un amor solamente riuscire a a arrivare con le statistiche giuste e non viene sufficiente in questi casi non viene sufficiente e hai il controllo del tuo punto di uscita comunque TOR è gratuito e siccome TOR è gratuito è comodo poi ho usato quello secondo me il primo motivo per cui in Italia abbiamo costanti utilizzatori dunque attacchi avanzati che ci sono a fare sulle reti di anonimato l'analisi passiva del trattico l'abbiamo vista ma un tipo di analisi ancora più letale con l'attivo ovvero supponiamo che stiamo osservando la retator e quindi abbiamo una media di connessioni che per lo più sono fatte tra server intermedi e non si riesce a ricondurre chi sta facendo che cosa però avete anche in stiamo osservando è prendere un utente reale e iniziare a chiedere le connessioni chi di prima uno poi più dell'altro e più dell'altro nel momento in cui in relazione a una trocchiusura di una connessione cifrata mai identificata perché sto vedendo la connessione cifrata dell'utente in indagine vedo che una delle connessioni cifrate e una delle connessioni in chiaro si interrompe allora ho trovato la correlazione quindi immaginate che c'è un calderone in cui la roba viene analizzata però a un certo punto io posso arbitrariamente togliere una di queste persone che sta comunicando dalla rete la sua connessione siccome è interattiva se si interrompe allora ho sentito che lui è proprio dato di questa connessione questo è un attacco che siamo attivo teoricamente è possibile farlo però all'interno del contesto di rischio si accetta ancora che la sua protezione ha questo tipo d'attacco perché comunque sia se un attaccante è possibile toglierti dalla rete e tu stai passando una connessione che devi ancora completare non c'è modo per riuscire a a evitare che la tua sparizione della rete non cause che un'introduzione quindi che non sia correlata ciò nonostante è abbastanza cioè così raro che si possa verificare così poco rischioso che non viene causato un problema un altro meccanismo avanzato per per esporre gli utenti anonimi è quello della lessical analysis ovvero e sono studiato a Nobel paper in che modo analizzando dei testi prodotti da un utente identificato quindi sapere quali sono i testi prodotti dell'ultimo anno analizzarli che viene in modo con cui scrivo e fai un poco sentire l'estrazione di un profilo un profilo di scrittura derivato da le parole così comunemente con le frasi alcuni elementi correnti che hai una volta che hai raccolti questi dati comunque sia hai un dato molto personale una volta che hai profilato quindi i possibiti utenti poi hai fatto questa analisi puoi fare questa analisi poi hai fatto dei contenuti anonimi se la firma l'impronta il tipo di pattern linguistico che traspare i documenti anonimi è lo stesso che tu hai rappato hai identificato che come dato di questo documento anonimo è anche questo qua che l'ho fatto prima e anche qui non è una cosa che si può risolvere da una tecnologia si può risolvere solamente ricordandosi che una volta che sei anonimo da quel momento in poi possamente diminuire la tua quantità di anonimato possamente esporre gli ospetti cartistici di te che poi sia un metodato o che sia la storia del tuo amico o quella quale poi dai e frugge il campo o che sia il tuo modo di scrivere e il modo di confondere le frasi sono sempre le elementi che sei che si danno che consentono di ricondurli a una persona la darknet invece è un uso di tor un pochino più avanzato per adesso per l'altro di tor o comunque a questi temi di anonymous emailing come meccanismi per riuscire a dare un dato anonimizzandosi quello che si vuole ottenere con la darknet invece è di offrire un servizio anonimo ovvero che non si sappia dove sta fisicamente che non si possa censurare perché non si capisce quale macchina è che non si sappia quali utenti si collegano a lui quindi tor opere questo tipo di servizio il protocollo tor si pone questo tipo di di tecnologia e consente a qualunque utente di generare un indirizzo il quale è la riga praticamente randomica altro non è che un hash che serve per identificare la vostra carica pubblica che poi serve per riuscire a a comunicare con voi e sempre a qualunque utente di crearsi dei servizi che siano personali associati a una chiave che sono integri a e dando in giro questo indirizzo si può far si che anche i vostri contori si colleghino al tuo servizio il tuo servizio lo sta sul tuo computer non c'è bisogno di IP pubblico non ti spiega che assentano la rete e non usi IP non c'è bisogno di dominio registrato perché il dominio è anche l'indirizzo l'altra chiave cioè l'identificativo della risorsa e questo consiste la creazione di servizio anonimo con queste caratteristiche un altro perché per attaccare il per attaccare l'anonimato per scoprire chi è l'utente che sta facendo il mondo del trascimento anonimo è quello dei conti attivi ovvero il fatto che uno script flash possa forzarti una connessione che non basta mettere proxy ma che va verso un server attaccante causa che se attaccante mette uno script in flash e tu utente anonimo cinali di sopra lo devi sul tuo browser il tuo browser esegue questa connessione senza passare l'autoproxy questa connessione è fatta dal tuo IP di casa di conseguenza tu hai amato il contenuto attivo che riesce a generare in te un comportamento questo comportamento di tracciare altri meccanismi di tracciamento si guardavano sui cookie cioè tu sei non anonimo ti ho dato un cookie poi mi raggiungi tramite tor ce l'ho stato il tuo cookie e lo stesso di prima quindi so ancora chi sei per questo motivo si è capito che la quantità di contenuti attivi sul browser richiedeva un'attenzione da parte dell'utente troppo elevata per mantenerlo anonimo allora il tuo project anziché incentivare l'utente a usare torsionalmente come proxy ha sviluppato il tuo browser bundle che è un Firefox customizzato con Vidalia che serve per gestire il programma con Tor tutto quanto non solo su USB e per sistemi per tipi differenti in questo modo hai già un browser customizzato per non accettare cookie per risolvere gli attacchi attivi che possono essere fatti sul sulla navigazione l'attacco più letale che non ho raccontato in pratica serve serve per riuscire a eseguire del codice esascript e riuscire a profilare l'hardware dell'usente avete pensato che sono le OpenGL le librerie di grafica e queste librerie di grafica danno distinzione delle funzionalità che possono essere chiamate anche da browser alcune funzionalità come ad esempio blur piuttosto che sfuma piuttosto che metti la luce piuttosto che fai effetti di shadow questi effetti che vengono computati dalle librerie grafiche sono realizzati in hardware l'attacco consiste nel avere un intento anonimo mandagli un contenuto javascript javascript inizia a realizzare alcune operazioni di blurring e shadowing grazie a la libreria javascript canvas canvas possono dedicare queste immagini a questi effetti dopo che ha generato questo tipo di immagine lo invia al server che va al contenuto questo anonimo semplicemente è stato generato delle immagini semi invisibili o non visibili nel vostro frame principale dal vostro browser queste immagini vengono inviate al server siccome è stato scoperto che il modo con cui il blurring viene effettuato dipende da quale caratteristica è hardware quindi non c'è c'è due immagini in generale con il stesso meccanismo non daranno la stessa quantità di bit in due macchine differenti perché il modo con cui è implementata la GPU influisce direttamente nel modo con cui verrà fatto il blurring di conseguenza riesce a capire qual è l'hardware dal quale ha avuto connessione anonima anche se l'utente non è anche se l'utente non tanto chi è anche se sta utilizzando un utente non utilizzato con un cookie senza cookie con un utilizzo continuo attivi come flash già la script è sufficiente per riuscire a farti costruire l'attività per questo motivo quando vede che viene utilizzata la canvas ti da un messaggio di warning delicato così che tu capisca se la CIA si sta inseguendo può fare un attacco simile in tutti gli altri casi non devono preoccuparsi perché è un attacco molto più teorico lo pratico qui funziona l'Ital Service quindi vediamo qua l'Ital Service sono quel meccanismo per offrire selezioni scusa vedete sotto il video ho risultato io fingerprint con te tramite la GPU quindi se sono poi tanti video di fingerprint quindi i materiali di GPU saranno anche evitati ah no scusami non è che è fingerprint la tua GPU non è che è fingerprint la tua GPU capisco quelle statistiche specifiche sue quello che devo fare per compararlo è che quando poi tu con un utente è incondicibile a testa vedo che i materiali sono le stesse quindi sotto la cittura è la stessa però serve richiedere naturalmente di comprarlo come fatto è già mappato è stato anche in chiaro quindi come ho trovato questa immagine a tutta nuova ho fatto anche bene in chiaro insomma una volta hai tutto il contenuto mentre era anonimo e so che un computer è innominato a questo tipo di profilo è drannomo e un altro dopo lo compiscono da un non-anonimo so che il computer che noi avremmo nominato ora il suo nome è il tuo perchè sono un computer non anonimo e il computer che nello stesso aveva fatto con la cittura però che io mangi più perchè non è abbastanza quindi potremmo eliminare la stessa immagine ah no infatti non è così cioè l'argo riuscire così tanto per cui le immagini sono sempre diverse e hanno fatto le vede in questo ricerca un'altra è un'altra caso in cui avviene costituiti in fronte dell'argo è che un'immagine in RAW pesa molti mega per questo motivo usare la camera per cui le immagini concludimano in CETEC in CETEC si fa con la sformata di Fourier quindi riesco a fare un'immunicazione di compressione fino ad un hardware alcuni elementi di questa compressione di un'immunicazione sono calpistici da macchina probabilmente da macchina produttiva ma quando si viene in tecote della macchina riuscire a estrapolare alcune sottiche caratteristiche da essere dei ritmi significativi della compressione monoculiere e compressione l'attica e riusciamo a fare la proposta di ritorco l'unica protezione che c'è è far passare ad un livello di ritorco piuttosto che di ritorco dell'immunicità già un tipo di applicazione di un sistema di tritocco che c'è avversare il contenuto quasi unalterato però i ritmi significativi gli elementi sono stati apprezzabili dall'analisi si deve riconversare se invece il tuo output diretto viene analizzato dai batter caratteristici dell'hardware già possono disparire e per trovare le informazioni di questo qua mi sembra che devi cercare fotocamera da hardware figure che in un caso della fotocamera spesso ci sono i dati exit che sono fantastici però in alcuni casi anche i programmetri tolgono gli exit però se tu vuoi tentare il modo in cui la compressione JPEG viene applicata sempre più difficile è meno esplicito devi basarti su un certo corpus di marginalizzare però intanto se bisogna togliere cioè a rincazzare davvero un elemento un po' significativo che è l'hardware exit non so tra l'altro se cioè non so quant'anno attagliate exit che lasciano una fotografica sai alcune anzi quelle lì dei miei telefonini sono talmente simpatiche e io le adoro perché alcune volte lasciano anche la geolocation dentro quindi sai esattamente la foto quando è stata presa con cosa è stata presa magari anche la posizione GBS esatta e l'ora naturalmente si 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 ma questo GBS dipende da tutto che è abitato dalla deduzione o può anche avvenire in modo indipendente questa dipende dalla mi sa che anche alcune fotocamere hanno il GPS dentro non vorrei sbagliarmi quindi gli exit sono devastanti però il TimeSip è una quantità di dati che volendo cogliere che comunque sono strutturati eliminando loro la fotografia neppure toccando per togliere il tempo immediato quasi e certo voluto internamente non lo fa o il vendor non ha interesse lui di lo farci però quello che notavo dell'utica per il hardware che sta comunque un po' sul banco secondo manche di ricerca è come si riesce a identificare un apparecchio reale la soluzione teorica in tutto caso questo è usare macchie virtuali per fare le operazioni per rafforzare quello che dici te i programmi che usano le operazioni immagini che leggono i file raw ogni volta che su un'arcat esce un'opera grafica i programmi pubblicano aggiornamenti per dire che è stato aggiunto il supporto al raw di questo modello sul mercato quando tu gli vai ad entrare e che fosse avere un database di interpretazione di questi file per questo che costantemente ogni volta che c'è un modello sul mercato questi programmi ti dicono non so a dove ti dice abbiamo aggiunto il supporto al modello che è appena uscito sul mercato proprio perché ogni modello si il trattamento del ferro io lo conosco molto in dettaglio so che alcune delle delle macchine comunque ci hanno di produrre già un lato più compresso perché sia più digestivo ed attente è una fase di compressione che che è vincolata direttamente a tutti gli altri però l'uso del ferro lo conosco ma è possibile identificare che ne so con una fotocamera semplicemente con diciamo il file raw però senza i dati exit diciamo dovrebbe essere relativo e legato in qualche modo al sensore anche al chip del sensore guarda i dettagli su quello che lascia più l'impronta poi l'analista non me li ricordo e sapendo comunque che sono computazioni che abbiamo fatto in hardware magari si nota che c'è un comportamento particolare su alcune sfumature questo qui comportamento è quello che poi dà la caratteristica invisibile cioè invisibile che è un tipo di ricerca molto di dettaglio che si chiama hardware fingerprinting e bisogna indicarli del tempo dedicare questo qui servirà per postarti come funzionano hidden services quindi come è possibile stabilire una comunicazione anonima con un server che non ci do di scroll Bob in questo caso il nostro hidden service ha un circuito ovvero una connessione con tre elementi anonimi connessione anonima ma con i tre servizi della rete e gli dice guarda che io sono questo hidden service si registra sempre in modo anonimo tramite la stick introductory monitor quindi dei servizi di introduzione lui dirà questi servizi di introduzione sono un nuovo hidden service è una mia chiave siccome hai scelto in modo randomico siccome sta in modo anonimo ha la la garanzia per cui non posso assoluti quanti compromessi e che almeno uno gli pubblicherà il dato sul database il database avrà appunto conosciuto da Alice il database è sempre all'interno dell'artetor di conseguenza quando Alice raggiunge l'artetor lo raggiungemo da noi non si può sapere che Alice sta cercando un hidden service specifico da lì riesce a sapere che esiste la 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 chiave di Bob che quindi in inizio effettivamente è associato a una chiave leale e cercherà un random point un punto che poi servirà per contattarsi con Bob e rilà al hidden point guarda che vuoi incontrarti con una persona che ha queste caratteristiche questa qui è la nostra chiave simmetrica è la nostra chiave temporanea questa qui è la sua idea eccetera no questa chiave temporanea è il spot lo comunica il database muocare la hidden point eh tramite un pintura al hidden point riesce a far arrivare a Bob la notizia del fatto che sta aspettando una professione sul hidden point Bob raggiunge la connessione sul random point è un modo anonimo scelto tra le reti dei modi anonimi Bob lo raggiunge in modo anonimo Alice e Bob si riuscite a mettersi in contatto pur evitando che Alice conoscesse dei dati differenti dalla chiave dei modi di Bob e e così funziona una connessione anonimo di usare l'ho 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 della store appoggiare avanti su Facebook il 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 la la mettere il servizio social network, ma il servizio social network con tutte le persone che interessano e il problema del cliente Tor è che viene utilizzato quello che fanno tratti due in uscita non che fanno servizi anonimi di conseguenza a causa che meno utenti utilizzano cliente Tor per utilizzare questi servizi e meno cliente Tor ci sono, meno servizi sanno nel futuro quindi è un pochino il limite che c'è della ricostruzione il vantaggio è che il servizio non è intracciabile, non si può sapere che si collega ogni connessione è anche riservata e garantita da un punto di vista e non è censurabile perché è un pochettivo che lo sta quindi consiste la ricostruzione da un servizio animato sui cambi elementi la comunicazione serve perché in questo momento l'autoddicazione ha un problema che l'è risolto solamente dai certificati SSL ovvero la comunicazione è quella proprietà perché quando mi collego con www.cartasi.it ho la certezza che sia Cartasi e non siamo Fisher che mi sta dando un sito fasullo il certificato che loro hanno gli è stato dato da una certification authority, ovvero queste aziende che hanno come unico scopo di verificare che a te, a quali dò l'indirizzo il certificato cartasi.it tu sei davvero una persona che lavora in Cartasi e che ha intestato il dominio cartasi.it e che sai quello che dice di essere loro in qualche modo svolgono questo ruolo di notai di garanti per cui se emettono un certificato firmato da loro, allora tu ti dà in modo automatico che che il mittente cioè il tuo interlocutore è quello che dice di essere questo non va bene finché due anni fa non hanno iniziato a compromettere le certezze di application authority, quindi come Comodo come Global Sign o non ricordo quale altra certezze di application authority il fatto sta che la forza dei certezze di application authority è essere delle chiavi pubbliche hard codeate di default nei browser in questo modo se tu sei parte di questa piccola lobby che ha potuto mettere la sua chiave all'interno del browser sai certamente che un utente che non ha mai voluto fare niente di cartografia andando su un sito che ha tu certificato avrà la notizia che il nostro sito è sicuro quindi tu potrai fare il business come se sei disposto a pagare qualcosa perché le persone che hanno le certezze di application authority finono i tuoi certificati così come funziona quel modello di mercato quanto sta che c'è sempre un'azienda sempre un'entità telematica è sempre comunque una chiave che tu la possa calcare a acquista di cartografia tu possa riuscire a rubarla tu possa riuscire a comprometterla vuol dire che c'è un single point of failure che può andare a far cadere l'unico elemento di garanzia che tu hai per poter dire mi sto collegando con carta sì e la donna carta sì nel caso di TOR questo è dato da protocollo stesso l'indirizzo ti riporta una chiave la chiave si serve sia per comunicare in modo riservato sia per avere l'autenticazione del mittente quindi da questo punto di vista risolve il problema di SSL perché ti garantisce una un'autenticazione senza avere una trassa da parti in più il fatto che tu possa esportare in un solo servizio TCP quindi la mia porta 80 le espongo il costo di indirizzo la mia porta 25 le espongo il costo di indirizzo fa in modo che tu stai esportando STOR solamente con un servizio quello che hai deciso al più in realtà che i telematici si possono portare a un servizio invece si basano sul fatto che un solo server offre più servizi quindi voglio attaccarti in web ma da web non riesco a entrare trovo che c'è posto trovo che ci sono altre cose esposte posso utilizzare degli exploit e violare questo server per da lì aver compromesso quello che mi interessava in questo modo riesci invece a essere più selettivo quindi quanti forza questa persona come se fosse un nome un nome casuale punto anima però noi abbiamo lo stesso a 6 point per ogni forza come funziona la configurazione tu decidi un tuo host locale o della tua subnet e nel fatto di configurazione tu ora le dici ora creami un interservice che mi porti a questo di più questa porta la tua directory per te per questo di più service è x poi puoi anche fare una seconda direttiva che è ora che noi vi do il service che va da un altro indirizzo a un'altra porta l'altro direttore se trova la chiave vuol dire che se non la trova genera una chiave quindi da poi dipende la nostra name e la registra quando tu darai questi due indirizzi se hanno due indirizzi separati non hanno nulla che li ricondui ho fatto che la macchina è la stessa però la mia connessione che entra in torre è sempre una no perché quando ho fatto vedere le connessioni e hanno aumentato i circuit il circuit è una connessione di torre anonima quindi questa qui sono tre open che saltano il punto di ingresso può essere lo stesso o può essere anche diverso nonostante quando arriva l'RMP non si sa di solito le stesse quindi non c'è correlazione ho finito qui c'è un po' di bibliografia se non siete troppo estremati mi posso parlare di godalisti e non è il 5% cioè un'altra scusa la cosa non si sa l'ho sentito qualcuno che consigliata per essere particolarmente sicuro e rendere approfondimenti i processi a ogni pagina di Stato andrò a cambio di identità per cambiare un percorso nuovo in grado di andare interamente alla banca allora si cambia di identità non fa altro che farti rinegoziare un nuovo circuito di possibilità cambi i tuoi exit node poi anche cambiarti ad exit node in relazione alla paesa dove vuoi uscire e si cambiare identità spesso ti dà più possibilità di di far si che apprendete la connessione che venga dall'indirizzo può essere d'aiuto va detto che ogni volta che chiudi il browser comunque ti cambi ti rifai il tuo circuit vuoi interessare a loro paranoici sì a ogni pagina visitata potresti cambiarla però è una cosa per cui non apprezzo ancora una reale esigenza perché non esistono attacchi in grado di memorizzare o o di capire il profitto della persona anche avendo ispezione l'intera connessione c'è l'intera navigazione senza che si chiama identità comunque se fai una connessione anonima non dai in modo automatico ai dati personali in modo in modo eccessivo quindi non è che quello che ti rende più spesso esposto è quello che tu dici di te quindi che tu stai cambiando identità costantemente o che non la cambi comunque sia ti stai sconendo per quello che hai detto oppure quello che rendi in modo inconsapevole perché lo fa il il togiatra script piuttosto che perché lo fa uno script che ti sta girando sulla macchina quindi alla fronte di attacchi che ti portate a onimato non è col cambio frequente che avviene la la una posizione maggiore però nulla ti nega di farlo non lo attivisci di farlo perché lo sta mai capito capito quanto è reale la pubblicazione da parte di organizzioni dentro le strutture di informazioni cioè che due su tre cioè l'entry e l'exit possono combaciare che possono combaciare che possono due ci si sono controllati dalla vendita va sui grandi numeri però ci sono comunque di server online c'è un certo punto di costo ci si chiede le volte quanto sia possibile che che un'organizzazione possa mettere una grande quantità di macchine amazon voglio dire ora inizio a dare il 5% di tutti i livelli di exit node e quindi inizio a certo il 5% del tratto di uscita è possibile non è qualcosa successo si sa più o meno quando una persona crea tanti exit node che comportano un'organizzazione come esempio il tone server che provvede dal servizio di gestire dei stessi program ad ottenere per mantenerli quindi è un po' come adotta il tone server chi gestisce tanti exit node quindi normalmente è legato a questo tipo di scopi di solito gli exit node che nascono sono molto più cantezzati da essere reti diversi tra loro non tipi contigui diciamo che non sono dei pattern che possono farlo immaginare ma plausibile anche se fosse possibile stai comunque cercando di catturare una piccola percentuale di dati nella rete e c'è un'ostante se invece con l'exit node non è tanto piccolo che non è tanto piccolo cioè 60 scusami io sto pensando dell'exit node perché è stato quello che è successo una volta durante due anni fa e che a un certo punto in due ore sono stati 309 exit node e dopo due ore sono scesi come se fosse un test di qualche tipo di organizzazione che vuole cercare di prendere una parte di tratto del tor creando exit node costruire l'exit node è un rischio che mitichi solamente con l'end-to-end encryption cioè cifre un prodotto predestratario anche se non intercettandoci nulla non sa chi l'ha fatto la neanzia che a quali tu immagini cioè controllo sia end-to-node che exit node sinceramente non ho mai visto nessun tipo di bab che le possa far pensare e sono con tanti nodi top per cui temo che la percentuale di circuiti di questi esporre sia davvero utile che si succede non c'è con l'articolo il punto è che la bibliografia è anonimato non possono proteggersi da tutto fanno sì che l'attaccante va a spendere molto di più in questo momento se stiamo cercando di controllare qualcuno che sta utilizzando con la sua cifrata è già meno costoso utilizzare un Trojan quindi riuscire a utilizzare un altro profilo con quarta tua macchina e da lì fatto la connessione cifrata anonima è come se fossi un protospallo la rubrica però pensando non è neanche tanto costoso perché vuoi inventare lì nel merito della mischia un computer di Svezia tu paghi questo computer che può essere qualsiasi di un gigabyte che dà tipo i 40 kilobyte in uscita che lo si confugge da exit magari e quindi non è che sull'exit se pensi all'entry all'entry ti ha una notizia se non una persona sta usando una connessione anonima se tu hai entry exit vuoi riuscire a dire questa persona ha fatto questa cosa ma per riuscire a essere senti che exit cos'è che mi sceglie il cliente l'utente qual è l'entr e qual è l'exit e scegli randomicamente deve avere tantissimi questo motivo dicevo deve essere se invece ne è solamente uno che sta collettando del traffico in uscita che comunque sia la soluzione è quello che è successo in quelle due ore è quello che è successo in quelle due ore però insomma è comunque un infinitesimo per caso lì exit node solo ha avuto quell'evento non si è più ripetuto o almeno magari non in quel modo lanciato ma la verità magari adesso c'è un più percentuale di exit node di qualche tipo di agenzia che ha messo su dei suoi exit node rob è sempre possibile trucceta e la responsabilità anche per cosa sta all'utente cifra in to end e via però pensare la creazione di un'automatica di node e tora per riuscire a essere sempre che exit sapendo che lo scegliere l'utente randomicamente mi sembra la pulizia statistica molto più costosa che per l'attacchietroia alla fine quello che si seduce è per l'attaccante quanto costa ne va la pena o ne va la pena può valerla per fare attacchi tempest cioè riuscire a a vedere le emissioni del monitor del computer al di là dei muri costa un sacco però si cosa deve fare dipende sempre da quanto vuole spendere per capire tempest attacchi sì un altro tipo di leakage inaspettato si comunque ha un aspetto del leakage no cioè sommettendo dei dati e anche al di là del muro si riescono a raccogliere un altro leak in particolare sta nel in chi usa il il contattore elettronico il contattore elettronico riesce a misurare con estrema precisione il tuo consumo il tuo consumo è implementato direttamente da quello che ti sta studiando sul tuo computer quindi puoi trovare che se c'è una proiezione di un prodotto multimediale che ha molte parti chiari come esempio della pelle c'è un pattern caratteristico di stesa e questo è stato dimostrato al Cdc due anni fa il Cdc è il Chaos Computer Club un evento che si crea annualmente a fine anno in Germania un gruppo di hacker con più di vent'anni di storia che ovviamente è la conferenza annuale e mi hanno spiegato questo tipo di minorarietà dunque se siete ancora lucidi vi parlo di GlobalX se sono altre domande se no due quindi GlobalX lo faccio un pochino meno tecnico perché è quello che spiega come un'applicazione dell'anonimato ha dei risvolti socialmente utili dunque GlobalX è un software libero fatto da queste 5 persone siamo in una situazione che si chiama Hermes Center per trasparsi indici da Human Rights in pratica la nostra storia sono tutte diverse proprio più quello che ci interessa spiegare è perché le tecnologie che vengono totalmente usate sono un po' franentesi sia dall'opinia pubblica che dalla politica che dai tecnici che la usano che dagli identi che affidano la loro vita a questa roba qua e in questa incomprensione stanno perdendo gli aspetti di diritti civili perché la rovina viene intimidata dalle tecnologie che non rispettano forse qualsiasi tipi di leggi perché sono legate al nostro Stato o che non danno le garanzie che sembrerebbe che diano in verità e per farlo capire è una situazione che fa anche divulgazione in più un progetto importante che abbiamo creato è GlobalX che è appunto questo GlobalX è un progetto che ora ha più di due anni siamo stati finanziati nell'ultimo anno per sviluppare questa tecnologia l'obiettivo di GlobalX è riuscire a stimolare il fenomeno del Wistblowing chi li vuole aver scritto questa parola per ora Wistblowing l'avete mai sentito o letta beh comunque il Wistblowing che è noto nel nord Europa da Italia in questa parte diventa famoso dopo che Wikileaks fa rispondere il caso del cable game ovvero il sito Wikileaks che riusciva a ricevere segnalazioni da parte di Wistblower ovvero le persone che davano le soffiate pubblica questi dati e hanno il loro tipo di impatto Wikileaks era in attività già da un po' di anni e da sempre si sapeva che accettava documenti e dati dati da utenti anoni online l'unico tipo di regola era il documento che invino deve essere scritto a te quindi se hai qualcosa che pensi che sia utile da conoscere mandalo qua è un approccio un po' insicuro se volete perché era una comunità centrale la comunità centrale non è dissimile dal servizio UPN che può essere compromesso o intercettato non è diverso da Napster che quando è nato ha ricevuto pressioni legali per cui ha smesso di utilizzare alcuni file quando c'è il single point of failure l'entità che gestisce questo servizio è possibile di attacchi così è successo Wikidix e la sua persona Giuliana Sardegg ed è detto chiaro che non sarebbe mai successo più un fenomeno di trasparenza simile gestito dall'entità centrale anche perché un altro limite di Wikidix veniva chiaro ovvero l'impossibilità di trattare dei temi specifici di un contesto dettagliato ad esempio se aveste mandato voi dei dati che vi ritrovate di ordine di interesse pubblico che spiegavano un appalto dato per l'Expo a un gruppo di revisioni che sta per lo più in Nord America o in Nord Europa è difficile capire il contesto legale e politico che c'è durante la questione Expo quindi cosa capiamo comprendere le segnalazioni che sono legate ad un ambito ristretto ad un ambito locale richiede persone dello stesso ambito per poterle capire e per questo questo però non può funzionare perché l'Utilix aveva anche la nomea di essere un sito estremamente sicuro quindi essere proteggere l'identità delle proprie fonti riuscire a essere rivistente da attacchi ma questo per resistere richiede la competenza tecnologica quindi abbiamo detto vorremmo fare sì che ci sia più distribuzione in questi nodi che sia anche più blocati ma nel contempo ma nel contempo serve una competenza tecnologica troppo elevata allora cosa possiamo fare facciamo software libero che dia questa competenza nel software e poi chiamo la procedura per far creare tanti piccoli sistemi distribuiti di list blowing quello che abbiamo scoperto è che il mondo del list blowing non era solamente quello che percepevamo noi al tempo era molto più vissuto tipicamente quello che è quello che un giornista chiama la protezione della sua fonte ovvero o il metformatore è una fonte che mantengo anonima o per diritto la possibilità di mantenere l'anonimo finché quello che abbiamo detto è vero e qui in altra casa il primo che portò i dati del pentagon paper e lo scadolo del watergate rimangono per 30 anni il secondo Bradley Manning che di recente stava sviluppando il suo processo e il suo santità è il libro di Gianluzzi in cui un maggiordomo del papa si è messo a tre e fuori documenti riservati che erano solamente destinati all'ex papa e ha cercato di venire protetto finché però dopo le indagini non hanno esposto chi fosse evidente lui ecco vediamo anche uno dei motivi per cui è difficile che una fonte attuale possa essere ritenuta a noi ma siamo in una società totalmente controllata con un tecnologico totalmente per presidere e lascianti in tasca quindi la possibilità che gli istituti fossero protetti nel loro animato era molto più difficile rispetto a quello che avveniva 30 anni fa quindi riuscire a dare una soluzione tecnologica che consentisse di portare allo stato dell'arte la produzione della fonte per i giornalisti era il nostro goal questo tipo di presentazione era fatta a peste del giornalismo quindi comunque il target erano giornalisti che devono capire perché gli possiede una tecnologia che gli garantisce che le loro fonti siano protecche questo però magari è caso che il terminologio sta qua andrà tecnica di quella che ha aspettato il punto bisogna mettere in contatto una fonte una persona che ha cosa da dire che vorrebbe riuscire a comunicarlo a un giornalista con il giornalista ma come si fanno a conoscere queste persone se si conoscessero non ci sarebbe bisogno di un sistema andrebbero se la due persone non se andrebbero una mail e le risolte ma che sono queste persone il boost blower è qualunque utente cioè la fonte è qualunque utente possibile chi ha visto un fatto per cui vorrebbe poterne parlare e il giornalista invece è quello che può avere questa informazione capire se è vera siccome sarà in modo anonimo deve non fidarsi assolutamente e verificare se è vera riuscire a capire se è importante per la società in cui sta riuscirà a scriverci una storia riuscire a capire che ci siamo di quindi sono due lavori da parte di entrambi che vanno a considerare internet è il posto meno sicuro assoluto per questo tipo di relazione perché se ti metti a cercare in modo casuale un giornalista giusto può essere che qualcuno lo trova può essere che qualcuno stenga a ritrovarlo può essere che lui lo ti consideri perché ti considera uno dei tanti rumori di mondo che lo stanno campiando una giornata può essere che c'è un controllo nel tuo ufficio per cui se tu sei l'unico che si contatta con che va in contatto con questo giornalista vorrebbe essere ricondotto al fatto che il paghetti ha parlato di questo che viene all'interno siccome questo blowing in nord in nord europa viene utilizzato per questioni di trasparenza aziendale o ogni azienda che votata sul nasdaq deve avere un sistema di questo blowing interno perché una buona parte di crimini chiamati white color crime cioè crimini infatti negli uffici ha una piatristica di non avere una scena del crimine evidente hanno la tendenza che sono dette con l'omertà o con la sediatezza e muoversi nel plausibile riescono ad essere proprietati per molti anni se qualcuno ne fa parte vorrebbe magari poterlo riportare però se non c'è un sistema di whistleblowing si trova che il suo interlocutore naturale è il suo capo e il suo capo magari a parte di questo tipo di malefatta allora in nord Europa si usano delle outline dedicate di avvocati che gestiscono psicologicamente anche il whistleblowing che può prendere il suo telefono chiamare 24 ore su 24 e dire guarda c'è cosa che non succede che non va bene in un ufficio devo parlare che qualcuno è fidato loro sono pagati allo stato per gestire questo tipo di segnalazione intermedio alla segnalazione che c'è così da far sì che il problema non continui a radicarsi e che si è rispetto il problema possibile nel 2002 il New York Times ha messo come una copertina di fine anno tre whistleblower una dell'FBI una di Erron e una di Warcom tutte e tre tre donne che hanno capito che cosa non stava andando che doveva essere pubblico quello che succedeva perché aveva potuto portare o un crack finanziario o ha delle cattive indagini o la verità su le indagini sul Vettore Giarelli e di conseguenza hanno fatto questa attività di vedetta civica così si traduce in italiano questo è blowing vedetta civica stavo parlando del controllo degli uffici se voi siete in un ufficio in cui alcune persone sono impiegate in questa malepatta che si potrà e nel proxy aziendale c'è una connessione che un utente ha fatto verso un sistema di sanazione o un giornalista è evidente che se si fa uno più uno l'utente che ha fatto la sanazione è proprio lui e quindi l'abbiamo scoperto l'ha unimato per essere garantito del prossimo tipo di attacco come sia possibile in alcuni posti in cui sono protetti quindi sono incentivati a fare questa attività e poi sono protetti come testimoni a quali saranno anche rintegrati nel loro lavoro in altri posti invece in cui sono protetti ma anzi vengono stigmatizzati con minacce tipo aiutami il nemico rischiare il gastro o prendi il nemico quindi a sconto del contesto legale è solo valutare se è voluto utilizzare un sistema di custom blocco in anonimo in anonimo o meno e poi il fatto che se qualcuno può segnalare una malefatta in un contesto magari piccolo in cui c'è un potere criminale praticamente filtrato sia la pubblica amministrazione che nelle forze dell'ordine che nella municipalità e se viene in mente qualcosa non è un caso allora l'anonimato dell'utente è l'unica soluzione che gli consente di dire la tecnologia mi sta proteggendo tutto il resto non posso filarmi però intanto posso tenere fuori quello che voglio riuscire a dire questo tipo di problemi su quelli ci siamo messi in mente di poter risolvere una tecnologia che potesse poi essere utilizzata sia da gruppi attivistici sia dai giornali che vogliono utilizzarlo per avere informazioni riservate a parte delle loro fonti sia da sistemi di uste blocini istituzionali che vogliono adeguarsi a questa usanza del nord Europa questo motivo è proprio questo software che si basa interamente su Tor per esporsi in una rete anonima quello che abbiamo capito era anche che non offrissimo il servizio che offre il servizio comunque responsabile dei contenuti che stanno transitando per riuscire a mantenere una maggiore separazione di responsabilità noi parliamo solamente dei software e delle procedure di utilizzo la documentazione i casi d'uso la customizzazione se serve però abbiamo cercato di creare il possibile una organizzazione la community chi invece utilizza il software fa parte di tre ruoli il node administrator è quello che ha la visione politica o trasparenza o isoriale per cui capisce che segrebbe un nodo il receiver invece è un giornalista o un esperto o un luogo ufficiale sono le persone che ricevono i dati di rassignazione i dati che non rinunissimi ricevono i receiver i receiver sono gli utenti del nodo GlobalX e poi il mister blower oppure il fonte è l'utente che in modo anonimo arriva sul nodo e fa la segnalazione questo tipo di di lusso comunque sia ha una una bella quantà di problemi perché la possibilità più semplice decida di avere un nemico inventa un'informazione su questo nemico la metta così e la manda a qualcuno e lo sto praticando sputtando a modo gratuito utilizzando questo sistema questo perché non succede senza tecnologia perché il giornalista si fida non dai dati della fonte ma si fida della fonte quindi so che sei una persona autorevole so che sei esperto questa cosa mi puoi dire quello che mi dici ti proteggerò perché so che posso fidarmi di te nel momento in cui la fonte è anonima non ti puoi fidare della fonte ti puoi fidare sui dati che ti dà ma i dati che ti dà sono non devono essere dei test scritti su pugno altrimenti rischi di mescolarti chi ha visto gli alieni con chi vuole scusare il vicino rispetto a chi davvero sta provando anche qualche tutta esperienza i dati che ti devi dare più possibile dovranno essere file file che contengono degli elementi riprovabili verificabili in altri modi ad esempio quando è arrivato il fax a fatto quotidiano inoltrato da un cardinale in cui c'era la dichiarazione di un altro cardinale che diceva il papa morirà 12 mesi loro hanno detto ma dovrebbe essere fasullo ma chiamiamo un vaticano chiediamo ma sto vax è vero gli hanno detto sì è vero ma ora il contenuto potrebbe essere una follia del tizio che la scrive quindi c'era un dato e si è potuto verificare in lo stesso modo quello che deve succedere in un sistema che si vuole basare sui dati anonimi per fare del giornalismo o per fare dell'indagine serve per poterli verificare per questo motivo se è bisogno che le persone che comprendano questi dati siano non giornalisti generalisti ma possibili persone esperte del contesto che si va a trattare di conseguenza il nodo non è mai dammi i dati che vuoi li ascolteremo ma è io sono il nodo della città di Paria e voglio preoccuparmi dell'inclinamento che è fatto sul fiume Po della corruzione che è fatta durante la transizione della pubblica amministrazione questi due temi sono due contesti i due contesti erano dei riceventi differenti secondo ci sono persone legate all'ecologia e ai chimici e secondo ci sono delle persone legate magari all'aspetto di monitoraggio degli appalti o studio su un'unità organizzata e sui canoni correttivi quindi poter creare dei nodi che hanno dei contesti consente di far si vedere tutto dove sia impossibile quello specifico e poi non si tratta di una di un sistema di invio un dato in modo anonimo e dopo di che sparisca è stato un meccanismo che alla fine di una selezione ti dà una ricevuta una ricevuta altro non è che una password randomica generata per l'occasione in questa ricevuta la ponte potrà tornare su un'area sicura nella quale tutti i riceventi hanno ricevuto i suoi dati i riceventi possono commentare anche degli ulteriori dati lui può spiegare meglio quello che ha inviato può integrare con nuovi dati in questo modo si fa sì che non ti stai chiedendo una fonte anonima di già dei file ma la fonte anonima le stai cercando di tirar fuori il più possibile così da farti un'idea nell'insieme e poter mitigare il fatto che un fasullo non professionalizzato potrebbe portarti in inganno se invece riesci a fargli estrarrare il contesto un fasullo può essere semplicemente scoverto come fasullo e quindi il raggiro al giornalista fornire meno facilmente si garantisce il whistleblower perché il nodo è esposto su un fasullo e di conseguenza un nodo esposto su un fasullo o di un service non si sa chi la collega chi la contatta anche se quindi il nodo l'administrator fosse un infiltrato che non si sa su un fasullo o venisse costretto minacciato o lo scusso fosse compromesso il dato di chi è il whistleblower non ce l'ha e più non può essere sussurato perché su Tor e non comunitato si trova fisicamente in server perché qui c'era una live demo nel nostro modello di utilizzo è che ogni persona che ha una visione su un posto dove può servire un meccanismo di trasparenza può crearsi un modo di globalics può sciogliersi i receiver in relazione alle persone giuste per comprenere i dati di quel tema può iniziare a fare pubblicità a chi potenzialmente vuole queste informazioni quindi se voglio trovare chi paga le mazzette per un certo giro d'appalto cercherò persone in quell'azienda che potrebbero avere interesse a parlarne a spiegare a bloccare questo fenomeno piuttosto che se c'è qualcuno se c'è un contesto legato a interventuali posso segnalare a chi lavora in quei settori o con le notizie pubbliche il receiver è per l'appunto questa persona che lascia selezionata perché sarà colui con la quale si interdoppirà deve essere deve essere deve essere dovuto parlando deve riuscire a ascoltire quello che potrebbe essere manipolato o quello che non lo è deve riuscire a trasformare l'informazione in una possibile in una azione piuttosto che in una storia in una notizia questa attività deve essere una persona affidabile o comunque legata all'iniziativa perché il rischio è che pubbliche i dati non si identificati correttamente piuttosto che uno faccia revisione e pubbliche si dice il rischio non ci falle cioè il fatto che un dato non codificato inizia a essere pubblicato perché magari si fa guidare da una logica di uno che esce con la notizia è quello che ha vinto di conseguenza si sottrae da fare revisione della veridicità quindi avere la notizia a assumo a sfondo del contesto si può pensare che la segnalazione vada a tutti i receiver quindi tutti i gruppi di persone collegate così da magari essere più garantisti e con proprio quello della fonte che la tua informazione sarà ricevuta o sarà gestita se hai la certezza tu da ricevente che anche gli altri tu colleghi hanno ricevuto questo dato sai che c'è un tempo minimo in cui gestirlo però non puoi metterlo a facere non puoi ignorarlo non puoi lasciarlo andare nel secondo di altro perché altri l'hanno ricevuto quindi in alcuni contesti magari obbligare il fatto che l'informazione arriva a tutte le persone destinate è una forma di garanzia che ce la seguite piuttosto che in alcuni stati come l'Iran il fatto di essere una persona che riceve è un rischio perché se hai bisogno di un discloso della tua identità in questo momento ti può essere passibile di minacce allora puoi anche avere una lista di riceventi anonimi invece là c'è una pubblica amministrazione italiana in cui con il decreto di coeruzione ora anche gli sistemi di boost blowing vengono spinti e sottilizzati da pubblica amministrazione quindi i riceventi saranno gli applicati dedicati che fanno da interlocutori per i dipendenti da via o di ocenare qualcosa dipende un po' dal contesto di rischio come si vuole verificare questo tipo di protezione quindi è un software che ci da su Linux era in alpha adesso in beta è fatto in Python si basa su framework twisted o comunque programma in Python comunque si basa su framework twisted serve in pratica servizio HTTP adesso che usa JSON per comunicare JSON è quel meccanismo di aggregazione dei dati che si fa su pagina HTTP normalmente le pagina HTTP contengono dati HTML con JSON dove ci fa una trasmissione che serve più alle applicazioni che girano su browser per poter avere sommità che servono in JavaScript JavaScript implementato con AngularJS una delle librerie di Google per fare applicazioni in JavaScript questa applicazione vendata da come applicazione dal back-end dopo di che back-end comunica con il meccanismo JSON l'applicazione ho una domanda che potrebbe sembrare un po' un'opportuna why you know Django? guarda non l'ho scelta io non so risponderti perché non Django? perché che ha fatto la messa di tecnologica ha detto ma usiamo Cyclone e Storm e io non avevo questo tipo di esperienza in Python al tempo quindi non potevo farla va detto che vabbè serviva magari essere possibili minimali quando hai una insicurezza o comunque vuoi andare in contesti di molto rischio l'unico il modo migliore per avere controllo sul tuo codice è non avere i framework molto grossi ma essere possibili ridotti quindi Twisted è un framework molto minimale che ha fatto vita di rete la parte di strato creata sopra di Twisted è fatta da Cyclone che indiesce la parte di connessione web quindi si riesce comunque a avere il popolo essenziale la parte di DB è un ORM comunque sviluppato da Canonical ci lavorano delle persone professionali sopra hanno pensato riesce a garantire una sicurezza maggiore comunque il rischio principale in applicazioni simili fatte un grande framework di roba interpretata è che sia più possibile sposto attacchi e sia più difficile per chi fa le persone di sicurezza scoprire queste vulnerabilità quindi il motore di jungle abbiamo escluso da PQL poi di tutto suonato va bene così io ancora adesso non conosco bene la grande di jungle mi sono fidato di tutta l'analisi tecnologica va bene così certo abbiamo sopporto molto all'inizio perché c'è da fare librerie di supporto più alto va bene anche il client di android è in fase di elaborazione comunque sia quando hai una api rest le api rest sono in modo comune la quale un'applicazione di javascript comunica con un back end si chiamano sicuramente dei messaggi in questi messaggi sono documentati in questi due specifici si chiama la api rest e nel client android è sotto in fase di sviluppo così che si possa essere anche l'applicazione mobile poi siccome ci può essere il rischio a lungo termine che si nascano dei noti fasulli a ben si può lavorare su questo servizio che si chiama liquid directory per il momento è un wiki un wiki che viene traccia di tutti i sistemi di whistleblowing che si stanno al mondo e di lì degli articoli che rimandano a come funziona loro quali sono le garantie che spongono quali tipi di notizie è andata fuori nel passato in questo modo ci sia un po' attraccia la storia dei simili noti potete pensare che deve dare sostegno di effetto che c'è con il feedback di amazon cioè si dei vetori amazon o dei vetori il fatto che se un nodo non gestisce le segnalazioni possa avere un punto di rating negativo da parte dell'utente così che si sappia se un nodo è affidabile o meno per questo sarebbe avere un sistema un po' centrale che tenga traccia di questa reputazione che il track potrebbe essere ce lo vorremmo sopra dal prossimo musico c'è attualmente avendo vari work in progress ovvero secondo la stanza international d'Italia che vuole portare intorno ai comuni pubblicamente le azioni istrano di whistleblowing perché già adesso c'è la legge di evoluzione che è lo studio più incentiva ci sono alcune società con servizi a pagamento siccome per un'altra normativa se la pubblica amministrazione può scegliere tra software libero e software commerciale a parità di funzionalità deve scegliere software libero perché è gratuito allora è un incettivo di più per diffondere il nostro degli senatesi che stanno avendo su il loro sistema di whistleblowing interno dei gruppi di giornalisti investigativi come sempre quello che ha ricevuto offshore leaks quindi gli hard disk che venivano da una collezione di dati sulle società offshore per riuscire a fare questo tipo di indagini ha fatto solo due mesi fa gruppi di quel tipo cittadini attivi come sta succedendo in Piemonte per cui si sta facendo delle attività per riuscire a cadere un nodo per monitorare la transizione della sanità da privata da pubblica a privata alcuni giornali come Resbubberia o Balkan Leaks e poi nelle zone del sud-est asiatico per dove è tutto più pensato lo Balkan Leaks qui si trovate il project planning e lì invece il documento come si usa e come funziona era meno tecnico questi due talk ma questo è comunque il project chi vuole esupare in globalizia con noi? magari avessi tempo comunque python sul web ottima scelta si 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 adesso siamo nella fase di revisione di sicurezza da parte dei revisori hanno trovato una cosa critica altrimenti non vuole farlo vedere perché c'era un bagno di logica però non avendo l'internet se vuoi posso farci uno spot per se vuoi sì quale spot? faccio lo spot per lo tablet perché è il web button ahhh sì fammelo fammelo è un web button quindi non potrei neanche giocarti tanto se vuoi ti faccio uscire tramite Tor dal mio client Android non c'è problema infatti che la cosa bella è che c'era una della funzione questa potrebbe essere anche programma la funzione in cui è